30 milioni di premialità per la sanità molisana che nel 2015 e 2016, dicono i ragionieri romani, ha fatto bene i compiti a casa. Una boccata d'ossigeno per casse asfittiche come casse di zinco che si sa sono quelle destinate alle salme. In realtà con questi quattrini la sanità molisana potrà tentare una sorta di resurrezione che se non sarà proprio quella ufficiale di nostro signore si avvicinerà almeno a quella del povero Lazzaro. I soldi, dice il direttore generale dell'ASREM Giovanni Di Santo, serviranno a pagare in tempi congrui i fornitori. È un fatto davvero importante che dà la possibilità di una boccata di ossigeno alla regione molise. Noi avremo la possibilità e quindi l'assegnazione di questa premialità di dar conto e contezza a tutti i fornitori, a tutti coloro i quali in qualche modo da tempo aspettano per poter avere ristoro a ciò che hanno dato all'ASREM. È certo che noi puntiamo ovviamente a raggiungere quelli che sono degli obiettivi fondamentali, importanti per la nostra azienda, cioè il recupero dei tempi di attesa. È giusto e necessario che noi possiamo andare avanti entrando nel tempo giusto e quindi di ottimizzare al meglio la possibilità di ristoro ai fornitori aziendali. Il direttore generale interviene anche sulla vicenda che sta tenendo in apprezzione decine di persone in attesa di assunzione. Parliamo degli operatori sociosanitari, vincitori di concorso già convocati per la stipula del contratto e poi fermati. Tutto scorre, tutto va avanti e noi in realtà abbiamo avuto soltanto un attimo di necessità di chiarimento in ragione di quella che è una risultanza da parte del TAR e da parte del Consiglio di Stato. Abbiamo la necessità e diventa importante sapere chi prendere, nel senso che abbiamo delle gradatorie diverse e in base a queste gradatorie noi dobbiamo fare una scelta. È ovvio che la scelta deve essere oculata, ponderata, ma soprattutto dettata da requisiti di natura giuridica. Quindi noi ci siamo affidati alla sentenza del Consiglio di Stato, aspettavamo questa sentenza e in base a questa poi ci muoveremo. Ecco allora perché le PEC di convocazione per la stipula dei contratti? Sì, ma era partita questa convocazione, tra l'altro non a mia firma, e c'è stato questo momento di riflessione. Momento di riflessione che, ripeto, è solo determinato dalla necessità di sapere chi prendere e da quale gradatoria attingere. Solo ed esclusivamente questo. Ma andiamo avanti e daremo contezza e risultanze a tutti coloro che giustamente aspettano per il posto di lavoro, ma dobbiamo mettere le persone giuste al posto giusto. Sul tema delle assunzioni OSS va ricordato che in Consiglio regionale pende un'interrogazione del consigliere Gravina al presidente Roberti.